Buongiorno e ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV, questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa, il commento alla stampa del giorno che comincia come di consueto con l'almanacco, il santo del giorno che vediamo subito con la grafica, oggi la chiesa ricorda i santi Cipriano e Cornelio, il sole sorto alle 6.48, tramonterà alle 19.18. Oggi il tempo cambia, cambia con delle precipitazioni anche a carattere di rovescio, di temporale maggiormente esistenti nelle zone alto, collinarie e montane, nel settore settentrionale della regione, le temperature sono in aumento quelle della notte, stazionarie oppure in livello di munizione quelle massime, ma attenzione ai venti perché in montagna e in collina raggiungeranno anche il grado di vento forte o burrasca forte. Per domani invece ancora temporali, vedete piogge sparse in collina e anche sulla costa a carattere di rovescio nella prima parte della giornata, per quanto riguarda sabato 18, ancora cielo parzialmente nuvoloso con precipitazioni deboli nelle zone montane e poi isolate altrove. Insomma il tempo sarà stabile poi nei giorni successivi, anche se avremo per la giornata di domenica un possibile peggioramento poi a partire dal mercoledì, insomma la giornata di domenica sarà caratterizzata da nuvole, insomma ecco, però ci sta, ormai siamo agli sgoccioli di quest'estate, abbiamo avuto giornate ancora con 30 gradi, molto calde. Andiamo a vedere adesso i giornali, Scuolabus, mille alunni a piedi, questo è il titolo d'apertura della prima pagina del Corriere di Pesaro, gravi disagi per il forfè dell'azienda Tundo, 12 comuni in difficoltà, Colli al Metauro, Fermignano e Gabice senza piano B, sovraccariche alcune corse di Adria Bus per il ritorno, Green Pass, i presidi chiedono il personale per i controlli. A centro pagina invece il CT, campione d'Europa, acclamato nella sua città, città Iesi, le marche Iesi in festa per Mancini, poi il colpo di scena, area vasta 5, il direttore Milani, per il direttore Milani arriva il benservito, poi sesso a pagamento con due minorenni, chieste due condanne ad Urbino, morta la mamma di Ferri, il Papa chiama in lacrime. Pesaro, morta la madre di Andrea Ferri dopo l'omicidio del figlio, l'amicizia con il Papa, in 78 telefonate, la capitaneria batte piada marina, il chiosco dell'area portuale è ritenuto abusivo, scatta l'ordinanza di rimozione per la struttura. A centro pagina via alla scuola, a lezione però nei container per 100 ragazzi del Marconi, le lezioni si tengono nei prefabbricati, il caso alunni lasciati a piedi, denuncia l'atundo anche dai comuni e poi il project ripudiato, nuovo ospedale, quello di Pesaro, che doveva essere Pesorefano, diffida dell'Arenco alla Regione. Sotto trovata un'ascia di 6.000 anni fa, Urbania, reperto dell'età del rame. La pagina del Carlino di Ancona, centro pagina, tutti pazzi per Mancio, siete la mia gente, la grande festa di Iesi con la Coppa vinta agli europei come CT della Nazionale, grazie di tutto, ha detto Mancini. Pronto soccorso invece, fuga dei disperati, attese fino a 16 ore, la testimonianza di chi c'era, che racconta, la gente esausta, si staccava la flebo per andarsene, si staccava da sola. Catastrofe e Tundo invece, siamo nelle pagine interne, mollati 12 comuni, 1.150 alunni praticamente a piedi, Gabice, Gabice Mare, Colli al Metauro e Fermignano ieri sprovvisti del servizio alternativo, altri otto enti locali del Pesarese hanno rimediato con altre risorse, disagi anche per la giornata di oggi, il sindaco Rossi di Cartoceto dice abbiamo lavorato pure di notte per garantire i pulmini. Studenti a piedi, comuni corrono ai ripari, Valmetauro e Valcesano, gli enti locali si sono messi in moto per organizzarsi e garantire il servizio fin da ieri, emergenza per il momento tamponata. Mezzi Adria, bus al completo, orari di uscita però non rispettati, il direttore Benedetti chiede agli istituti di Pesaro Urbino il mantenimento dei patti, sovraffollate certe corse al ritorno di circolari destra e sinistra per Cattolica e Fano. La cronaca invece, un frontale sulla statale, grave cinquantenne mondolfese in elissoccorso al Bufalini, la sua auto ha invaso la carreggiata opposta scontandosi con un autocarro, la strada è rimasta chiusa per un'ora, stiamo parlando di un incidente che è venuto alle 7 di mattina sulla statale 16 Adriatica, all'altezza della circonvalazione tra Cattolica e Gabice. Forse un colpo di sonno o un malore nell'impatto violento, la piccola utilitaria è stata sbalzata sulla corsia di marcia verso Pesaro. Sesso a pagamento invece dalla pagina di Urbino con minorenni, chiesti 6 anni per le due imputate, le due sorelle di 14 e 16 anni indotte a prostituirsi con 5 anziani, accusate la madre e una donna bulgara. I fatti all'epoca era il 2015, queste due ragazzine avevano 14 e 16 anni ed erano residenti nel paesino di Pietrarubbia. Ragazzina pedinata con l'app Spia Stalking, padre e figlio condannati a Senigallia, il giovane tormentava l'ex fidanzata, il padre invece pressava i genitori affinché ritirassero la querela, quindi padre e figlio condannati per lo stesso processo, il più giovane 22enne per il reato di stalking nei confronti dell'ex fidanzatina, l'altro invece 63enne per tentata violenza privata, secondo la procura aveva pressato gli ex suoceri del figlio per fargli ritirare la denuncia di atti persecutori. I fatti avvennero tra il 2016 e il 2017 in una cittadina tra Iese e Senigallia, la vittima all'epoca, questa ragazzina, aveva 16 anni, oggi ne ha 21, il fidanzato invece, oggi 22enne, dovrà risarcire la ragazza con 6.000 euro. Morta la madre di Andrea Ferri, l'amicizia con il Papa in 78 telefonate, Bergoglio la chiamava una volta al mese dopo l'omicidio del figlio, il gestore di pompe di benzina ucciso nel 2013, le diceva sempre buongiorno Rosalba come sta e si prendeva carico del dolore che lei si portava dietro. Il funerale si svolgerà oggi alle ore 15.30 nella chiesa del Sacro Cuore nel quartiere di Soria. Anche il corriere adriatico ne parla, addio alla mamma che al telefono parlava con il Papa, questo è il titolo. Morta Rosalba Ferri, Bergoglio ieri ha chiamato in lacrime il figlio, Rosalba era malata e non riusciva a parlare con il Papa, ma lui ha chiesto comunque di avvicinarle la cornetta per poter recitare una preghiera, così racconta Michele. Tra l'altro sottolineando una data importante, un giorno importante, una coincidenza sicuramente molto significativa, il giorno della morte, ovvero ieri era il giorno della Beata Vergine Maria Adolorata e se leggerete l'articolo di Benelli, così come quello del Corriere Adria del Carlino, per chi conosce la famiglia, insomma saprà che questa donna ha davvero sofferto in tutta la sua vita tantissimo, per tante purtroppo disavventure e disgrazie. Lo strano caso invece dei tanti pazienti in rianimazione rispetto all'area medica per ogni due ricoveri di Covid, ce n'è uno in terapia intensiva, Marche prima in Italia, le ipotesi infezioni affrontate tardi e bassa protezione dei vaccini nelle fasce coinvolte. Questo è un articolo interessante perché c'è questo indice che balza all'occhio, che riguarda appunto la nostra regione, le Marche sono la prima regione d'Italia per posti occupati in terapia intensiva rispetto alla capienza dichiarata, siamo al 12,7% e sono in questo momento 27 persone quelle ricoverate in terapia, come dicevo, intensiva. Bisogna partire dall'età media dei ricoverati, ovvero 57 anni, questa è l'età media. Di questi 27 ricoverati sottoposto a cure intensive i vaccinati sono 4 su 27, ovvero il 14%. Poi c'è un'altra considerazione che fa il giornale, da fare riguardo alla possibilità di un generale sottostima dei casi che si intreccia ad un numero non altissimo dei tamponi e questo fa sì che i pazienti arrivino in ospedale troppo tardi quando l'infezione ha già attivato la maggiore aggressività sui polmoni. Ecco perché probabilmente appunto le terapie intensive si affollano, si intasano, perché uno tende ad aspettare. E da una parte c'è chi aspetta volontariamente e dall'altra invece sempre nell'ambito sanitario andando sulla pagina 4 del resto del Calino c'è chi purtroppo è costretto invece ad attendere. E anche a lungo, addirittura in questa storia che viene raccontata oggi da Cursi sul resto del Calino di Ancona c'è questa segnalazione che riguarda l'attesa estenuante al pronto soccorso del Torrette di Ancona come una bolgia dantesca, politica incompetente, vergogna sanitaria, la testimonianza del Vigile del Fuoco Maurizio Ulisse che martedì ha accompagnato il padre in ospedale e dice, raccontando di queste scene indecenti ho visto persone esauste, staccarsi la flebo e tornare a casa e personale sanitario praticamente abbandonato. Alla fine siamo rimasti lì dentro per 16 ore e quindi questo è il racconto ma è uno dei tanti che il giornale sta pubblicando in questi giorni e tra l'altro se leggerete la pagina della cronaca di Ancona troverete nella seconda pagina che si occupa dell'ospedale appunto intasato anche chi ammette che purtroppo l'ospedale di Torrette è quello che raccoglie i pazienti da tutte le zone lì attorno, come dire, non essendoci gli ospedali piccoli di prossimità come era un tempo avendo concentrato tutto su Torrette, se poi non ci sono le persone, il personale adeguato nel senso in termini numerici è chiaro che si fa fatica. E allora ecco che sulla pagina del carico di oggi si parla di quello che invece doveva essere l'ospedale unico Pesero-Fano e certo avendo letto adesso quello che sta passando Torrette verrebbe da dire chissà, forse è meglio così, cioè è meglio che l'ospedale unico Pesero-Fano sia assaltato o comunque non sia negli obiettivi della nuova giunta regionale, perché? Perché se appunto tanto mi dà tanto, meglio allora avere un ospedale per Pesero e un ospedale per Fano. L'ospedale della regione età ce la renco di fida, a livello politico si dà per scontato la revoca del progetto ma nessuno ha inviato informazioni scritte ai proponenti del project financing, ci sono tempi lunghi, se il project è pronto da tempo, la nuova linea della giunta regionale punta ulteriori studi di progettazione, un anno di silenzio, già cinque mesi addietro le società avevano chiesto informazioni ma ad Ancona non hanno ottenuto nessun tipo di risposta. Intanto a Fano è stata inaugurata invece una nuova scuola per 250 alunni, la scuola è quella primaria di Cucurano e Carrara, grande dono, un nuovo inizio, il saluto della dirigente della primaria, dieci aule e cinque laboratori con una bella palestra. Un investimento totale di 10 milioni di euro con il futuro edificio per materne, biblioteca e cucina mentre di taglio basso sotto carnevalesca recepita gli input della prefettura lo statuto è stato modificato per dare all'ente una personalità giuridica, intanto però rimane irrisolta la questione dei carristi. Sempre da Fano, Aset, assunzione anomala, tempesta perfetta, attivati comitato e commissione di controllo, il comune chiede chiaramente alla società dei servizi, il Sigim interviene invece sul ruolo giornalistico. Mentre sempre da Fano, ma la pagina è questa volta del Carlino, anche qui scuola un primo giorno a tolleranza zero, negato l'ingresso ad un insegnante che non aveva il Green Pass e che però si era presentato comunque a scuola perché dice la mia è una scelta di principio, io ho ribadito che non potevo però consentire l'ingresso, ha detto la preside Augello, mentre si parla in questo articolo di Anna Marchetti anche dello studente no mask sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio che però non si è presentato in aula il primo giorno di scuola. Ma la preside dice lo aspettiamo a braccia aperte. Alzheimer e adolescenti. L'ambito si muova, dice e chiede Maurizio Tomassini che è dirigente nazionale delle ACLI, sollecita ad occuparsi delle due problematiche, aspettiamo di essere convocati, non si concentrino sul contenitore, si occupino però invece dei contenuti. Poi c'è la notizia che fanno omaggio alla Segre, la senatrice Segre con la cittadinanza onoraria, ha una consegna ufficiale della pergamena da parte del Sindaco Massimo Seri e dall'Assessore alla Pace, Memoria e Legalità, Samuele Mascarin, la motivazione per dimostrarle il rispetto, la stima e l'alta considerazione della comunità. Dalla Val Metauro invece ho visto un branco di sette lupi, predatori nelle campagne fanesi, video girato da un cacciatore che si chiama Mauro Talamelli, un operatore balneare appassionato cacciatore. Queste riprese le ha fatte vicino alla selva di Sant'Elia, una zona storicamente rinomata per gli appostamenti alle Palombe che si trova poco sopra San Cesario. Ormai questi si spostano verso la costa Urbino. Finalmente le risorse per lo stadio Montefeltro. L'impianto si potrà riqualificare grazie ad un finanziamento che sfiora il mezzo milione di euro, sempre più importante per l'atletica. E poi Acqualagna non dimentica il figlio più illustre, ovvero Enrico Mattei, che qui vedete nella fotografia ad Acqualagna con il sindaco Ovidio Lucciarini. Da venerdì a domenica ci saranno iniziative per onorare la memoria del fondatore dell'ENI, spettacolo teatrale per raccontare spirito e anima del grande capitano dell'industria. Adesso invece la pagina di Senigallia. Due famiglie afghane in fuga sono state accolte in città. Quattro adulti e sei bambini arrivano da Erat. A Senigallia, dopo la quarantena obbligatoria a Roma, sistemati in alcuni appartamenti. Si tratta di persone che a vario titolo hanno collaborato con il nostro governo. Intanto un ventenne sorpreso su uno scooter rubato è scattata la denuncia, sempre a Senigallia, nel quartiere Vivere Verde, segnalazione dei residenti, giovani in moto, praticamente senza regole. La felicità, tornare a casa tra la mia gente, sono le parole del CT, il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Mancini, l'allenatore azzurro, prima del bagno di folla, ha detto, resto sempre lo stesso che sognava da bambino. Abbiamo fatto gioire tutta l'Italia. E queste sono le immagini di questo momento. Vedete qua sotto, lo abbiamo già detto ieri, 1.300 soltanto le persone consentite, ammesse all'interno del palasporto, dove si è tenuta questa cerimonia, per ringraziare il cittadino illustre di Iesi, appunto, Mancini. L'informazione la rassegna, il commento finisce qui. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.